Frenz 2014, quarta edizione, come sta andando? Guarda come sta andando, ho appena giocato. Hai vinto? Io, ho vinto io. Oggi vinciamo un po' tutti perché è una giornata importante, si dedica l'attenzione alla prevenzione per la tiroide in questo caso particolare, quindi è una bella giornata tra amici, ma soprattutto una giornata che ha uno scopo molto importante. Questo ci fa vincere a tutti. Questo è importantissimo, noi ti ringraziamo anche del tuo contributo, abbiamo visto un grandissimo afflusso di tantissime persone dello spettacolo. E siamo molto contenti perché ci sono anche tante e molte persone che oggi sono qui proprio a fare un check-up per la tiroide. E quindi è un contributo importante per quanto riguarda il Policlinico Gemelli e il professor Menischincheri. Noi ti ringraziamo e buon prossimo. Grazie.